Il Consiglio federale ha approvato un importante provvedimento a favore delle atlete neomamma denominato la maternità e di tutti. Che cos'è la maternità e di tutti? Che cos'è questo fondo? Questo fondo nasce per sensibilizzare le società nei confronti di questa bellissima esperienza delle atlete, nasce per garantire un'assistenza durante la gravidanza alle atlete e ha delle iniziative a favore per il rientro delle atlete in campo. Come si accede al fondo la maternità e di tutti? Una volta che l'atleta è stata ammessa al fondo maternità per le sportive italiane istituito nel 2017, che cosa fa la FIPAB? La FIPAB per le sue atlete eroga un contributo aggiuntivo di 500 euro mensili per un totale di 1500 euro al mese per 10 mesi. Io sono la mamma di Martina, una bambina di 4 anni, nata nel 2017. Io non ho potuto soffrire di questo fondo, ma voi sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.